Il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, ha annunciato la volontà di un referendum per decidere sul futuro del suo comune nell'area marina protetta, Torre del Cerrano. Questo a causa, a suo dire, dell'improvvisa accelerazione sulla revisione dello statuto dell'ente parco, decisa dai rappresentanti del Comune di Pineto in seno all'Assemblea Generale che si è tenuta giorni fa presiduta dal sindaco Robert Verrocchio. A distanza di cinque anni di collaborazione, dove il Comune di Silvi naturalmente ha cercato di trovare gli equilibri necessari per poter andare avanti con l'AMP, ricordiamo che quando mi sono insediato c'era praticamente solo polvere e cenere, abbiamo ricostruito in cinque anni un dialogo intenso con tutti gli enti, abbiamo collaborato per la nomina del Presidente, abbiamo cercato di porre le basi del rilancio dell'area marina protetta in un momento molto difficile dove i tanti cittadini di Silvi, balneatori, albergatori erano contrari a questo ente. Naturalmente dopo tanto lavoro ci troviamo in un momento particolare, dobbiamo riscrivere lo statuto a queste condizioni, cioè con le modifiche che vengono apportate, che vengono spinte, che sono marginali del Comune di Pineto, naturalmente a noi non vanno bene e noi abbiamo bisogno di riequilibrare una governance importante per il futuro dell'AMP. E se l'AMP dovrà andare avanti, questo lo dovrà decidere la cittadinanza e il popolo silvarolo, naturalmente sono pronto a portare un referendum cittadino e sono convinto che molti appoggeranno questa iniziativa. Questo perché alcuni membri del CDA del Parco potrebbero forzare la mano e imporre la loro decisione facendo leva sulla maggiore forza di Pineto in seno all'Assemblea Generale, anche a costo di rompere gli equilibri creati nel tempo. La nomina presidente di Fabiana Retusi nel 2021 era stata frutto proprio di un accordo politico tra centrodestra e centrosinistra. Ricordiamo che la città di Silvia è molto più antropizzata rispetto a quella di Pineto nel tratto dell'AMP e dunque io so quanto lavoro e quanto fatica ho fatto con tutte le associazioni di categoria per cercare, e con i cittadini, per cercare di trovare un giusto equilibrio ed è naturale che i cittadini scelgano da che parte stare, ma soprattutto scelgano il futuro della città di Silvia perché ricordiamo il territorio di Silvia e siamo convinti che solo la scelta popolare può essere la migliore per risolvere questa problematica.